Il personale della Polizia Municipale di Agropoli, coordinato dal Maggiore Sergio Cauceglia, ha sottoposto a sequestro un manufatto completamente abusivo di circa 120 metri quadrati, realizzato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico nonché in area compresa nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e sito di interesse comunitario. Nello stesso sito, altresì il medesimo proprietario realizzava un ulteriore intervento abusivo in totale difformità al titolo edilizio assentito, in quanto l'immobile, in luogo della sua naturale destinazione urbanistica e quindi deposito, veniva adibito ad uso residenziale. Inoltre il fabbricato veniva operato completamente fuori terra, con aumento dell'ingombro plano volumetrico. Gli agenti intervenuti hanno sottoposto alla misura cautelare del sequestro penale l'immobile che non risultava ultimato. Di questo sarà notiziata l'autorità giudiziaria competente e gli enti preposti alla vigilanza per l'adozione del provvedimento di demolizione. Deferito all'autorità giudiziaria, il proprietario. Sono state inoltre deferite all'autorità giudiziaria altre tre persone, proprietarie di un immobile sito nel centro storico di Agropoli, nei pressi della scogliera che digrada verso il mare per lavori eseguiti in difformità al titolo edilizio assentito e in violazione alle norme di tutela sul paesaggio. Tale attività è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l'associazione ambientalista Era Ambiente, coordinamento provinciale di Salerno dotata di strumenti di ripresa aerea. L'entità dell'abuso non afferisce a realizzazione di volumi ma ad opere sussidiarie che, ad ogni buon conto, avuto riguardo alla zona di particolare pregio paesaggistico ambientale, assumono particolare rilevanza giuridica.